A quasi due anni dal dissesto in via Dettori, nel cuore del quartiere storico della Marina a Cagliari, il ritorno alla normalità sembra essere ancora lontano. Risale infatti a gennaio 2023 l'allarme per i cedimenti strutturali degli edifici e la conseguente evacuazione dei residenti con lo stop agli esercizi commerciali e la chiusura della strada per ragioni di pubblica sicurezza. Una perdita idrica all'origine dei cedimenti, così come rilevato dalle indagini successive. Immediato l'intervento del comune per la messa in sicurezza delle palazzine e l'avvio di una lunga fase di monitoraggio. La fine dell'emergenza è arrivata otto mesi fa con la rimozione dei sigilli da parte dell'amministrazione di Palazzo Baccaredda e la riapertura della strada, ma la ferita resta aperta, con parte dei negozi ancora oggi con le saracinesche abbassate e le case ancora inagibili a fare da sfondo al contenzioso fra i residenti e a Banoa che vede la prima udienza fissata a novembre. Nel frattempo, gli esercizi commerciali rimasti chiusi nel periodo di interdizione hanno potuto usufruire dei ristori messi in campo dalla regione e dal comune di Cagliari, ma nessuna misura di sostegno è stata attivata per i proprietari delle case. Intanto, come denunciato dagli stessi residenti, negli spazi dietro le transenne regna ormai il degrado. Sta passando il secondo anno e noi siamo ancora qui. Ci hanno buttato fuori di casa l'8 gennaio del 2023 e da allora non si è interessato mai nessuno, non ci ha chiamato mai nessuno, non ci ha chiesto mai nessuno di come ci siamo sistemati, di dove abbiamo trovato le case, se le abbiamo trovate. Io, oltre ai figli piccoli, non mi è mai stata fatta nessuna assistenza e neanche un aiuto, almeno per indirizzarmi come meglio sistemare la mia famiglia in questa situazione. Però il sacrificio più grande è perdere la casa da un giorno all'altro, che il mio figlio di 10 anni, che adesso ha 10 anni, ma aveva 8 anni all'epoca, e non è passato un giorno che non mi chiedesse, mamma, ma la nostra casa, ma quando torniamo a casa nostra?